Per una volta in questo canale vi narrerò la storia d'un luogo oggi non più abbandonato, ma riportato allo splendore d'un tempo. Attraverso questo viale alberato, sulla cima di una collina, sorge il castello di Santa Giuletta, una splendida villa signorile, un tempo castello medievale. Mi trovo in Lombardia, per l'esattezza, nella zona dell'oltrepò pavese. Questa villa signorile ha tutt'oggi una storia misteriosa e poco chiara, questo perché nel corso dei secoli pochi si sono dedicati al suo studio. Sappiamo comunque che l'attuale villa sorge sopra le fondamenta dell'antico castello, fortezza costruita intorno al 1100. All'epoca Santa Giuletta era suddivisa in due distinti nuclei abitati, quello di castello ed un nucleo abitato in pianura a pochi chilometri da qui. Il castello è stato per secoli il centro nevralgico del potere feudatario di questa zona. Nel 1164 il castello era sotto la giurisdizione di Pavia, ma furono molti i signori che passarono da qui nel corso dei secoli. Dal 1300 il castello fu dei signori di Beccaria fino al 1694, quando il feudo passò alle famiglie Trotti e Isimbardi. Essi mantennero il titolo di Conti di Santa Giuletta fino alla fine del feudalesimo nel 1797, ma all'epoca il castello aveva un aspetto già simile a quello moderno, in quanto già a partire dall'inizio del 1700 il vecchio castello venne abbattuto per fare spazio a questa villa signorile dall'aspetto magnifico. Della sua storia moderna non ci sono molte informazioni. Sappiamo che dopo la metà degli anni 50 del 900 la villa vide un periodo di sempre maggiore degrado e abbandono. A partire dai primi anni del 2000 sono stati investiti notevoli sforzi per portarla nuovamente ai fasti d'un tempo, ed il risultato di questi sforzi sono oggi visibili. A partire dalla chiesa, piccola, semplice e allo stesso tempo magnifica. Le sue innumerevoli stanze, malgrado vuote, hanno comunque un fascino innegabile. E come ogni castello le leggende sono innumerevoli. Pensate che la villa nasconde diversi passaggi segreti, alcuni dei quali vennero addirittura utilizzati ai tempi della seconda guerra mondiale. Quello che state vedendo oggi è quasi un video introduttivo. Se l'argomento vi interessa, tornerò ancora in futuro all'interno di questa villa per scoprire tutte le storie che essa ancora contiene e nasconde. Perché malgrado l'edificio sia di proprietà privata, la struttura è occasionalmente utilizzata dalla proloco del paese. Scrivete nei commenti se volete un video più completo di questa villa, anche perché non ho ancora esplorato le cantine, che essenzialmente sono l'unica parte rimasta dell'antico castello. Cantine che vennero utilizzate secoli fa come prigioni. Grazie a tutti. Un'esplorazione quindi molto diversa dal solito, ma spero comunque di aver solleticato la vostra curiosità. Per quanto mi riguarda, questa villa è in assoluto un vero e proprio autentico angolo d'Italia nascosta. Ed una volta tanto, anche un reperto storico di inestimabile valore che si è salvato dalla decadenza cui purtroppo siamo ormai abituati. Grazie per la visione. Noi ci vediamo come sempre nella prossima esplorazione. Ah, vi invito anche a condividere il video e se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi a questo canale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.